Che mio agente me l'aveva detto, non andare alla prima puntata. Tu te la guardi da casa, così capisci che cos'è, di che cosa parla il programma e poi non ci vai. E poi ti inventi una scusa che ne so, no Mari scusa che c'ho un impegno, c'ho giudo, no Corrado mi dispiace ho bucato. No, invece no, sono venuta.